Non esiste un censimento preciso di quanti cinghiali ci siano in Liguria. Quel che è certo è che sono troppi e nella stagione di caccia che si è aperta a ottobre le quote di cinghiali abattibili è aumentata dell'80%, 35.000 rispetto ai 23.000 dell'anno scorso. Già l'anno scorso però non era stata raggiunta la quota e quest'anno sembra ancora più difficile perché c'è la peste suina e questo riduce le zone di caccia. Dalle indicazioni che sono state date anche dalla ASL i cacciatori non possono in zona rossa prelevare le carcasse degli ungulati che abbattono quindi anche se sono sani e quindi si rifiutano di cacciare perché poi se non possono portarsi a casa le loro prede da consumare, da vendere quello che è ritengono che sia inutile. Come c'è a Liguria e anche altri sostengono da tempo, la caccia non è sufficiente per ridurre in modo adeguato il numero di animali selvatici. Il 27 ottobre è in programma un incontro con l'assessore regionale sul tema. Le richieste di CIA rimangono quelle che erano già state presentate con la raccolta firme dello scorso anno. Con l'utilizzo delle gabbie di catture di contenimento, con la modifica della legge sulla caccia e soprattutto per quanto riguarda i risarcimenti ampliare un fondo di risarcimento, quindi con i fondi che arrivano dai tesserini dei cacciatori e ampliarlo con una parte della fiscalità per per dare risarcimenti giusti e qui in base al danno subito e in tempi celeri.